Sì, sicuramente quando hai i giocatori che abbiamo fatto un anno insieme, cresci su tutti i punti di vista. L'altro giorno penso che è quello, loro hanno arrivato due volte in porta, hanno fatto due gol, noi abbiamo arrivato molti di più, non li abbiamo fatti e questa è stata la sintesi della partita. Contro Lela, Sverona, per esempio, stavamo vincendo 2-0, loro avevano un'occasione, anche noi siamo rimasti in 10 per un infortunio e lì 10 minuti alla fine ci hanno pareggiato, però stiamo parlando sempre di episodi, non penso che per il momento si debba creare nessun allarmismo perché penso che non ci sono i risultati per questo, per il momento penso che dobbiamo essere positivi e guardare avanti perché questo è appena iniziato. Grazie a tutti.